Analizzando gli atti nel primo caso che si è prospettato di questo tipo, si tratta di una signora molto anziana alla quale aveva uno stato psicofisico abbastanza di debolezza e non era in grado di capire di cosa si stesse parlando. Quindi avendo già affrontato altri casi in passato di questo tipo, non contro banche ma contro altre fattispecie giuridiche, mi sembra di poter dire che non si tratta di truffa ma di circonvenzione. Emiliano Bartolozzi, avvocato del Foro Aretino, è convinto che per la sua assistita un'ottantenne a retina si possa configurare nei confronti di Banca Etruria il reato di circonvenzione di incapace. La signora ha acquistato le obbligazioni subordinate nei primi mesi del 2014 per diverse decine di migliaia di euro, sotto i 100.000 euro sarebbe la cifra. L'articolo del codice penale è il 643 e il reato è punito con la reclusione da 2 a 6 anni. Non era in grado di capire, sia per l'età sia per il titolo di studio, che un po' per la situazione psicofisica, non era assolutamente in grado di cosa si stesse parlando, ma né la preparazione né la prontezza mentale per capire di cosa si stesse parlando. Dall'altra parte c'è un operatore professionale che a mio avviso si è approfittato della situazione. Non è necessario che da una parte ci sia una persona malata perché ci sia la circonvenzione di incapace. È sufficiente che ci sia una persona debole in uno stato psicofisico di debolezza che non è in grado di capire quello che le stai presentando. E quindi questo fa sì che non si tratti di una truffa, ma di una circonvenzione. La signora sta prendendo consapevolezza. Vedo che in tutti questi casi di anziani in genere c'è grande difficoltà a accettare che la banca li ha traditi, perché è stato un istituto con il quale avevano rapporti loro, magari il marito precedentemente, quindi c'era una grandissima fiducia. Non ci sono nemmeno posti il dubbio al momento della sottoscrizione dei prodotti che potesse essere una cosa rischiosa. Altrimenti non l'avrebbero fatta assolutamente. Si fidavano dell'operatore che avevano davanti. Infatti la querela è stata esposta sia nei confronti della banca e dei dirigenti della banca, ma anche nei confronti dell'operatore che ha fatto l'operazione, che era quello che poi aveva il contatto con la signora che la conosceva. Il prodotto veniva venduto come assolutamente sicuro e quindi privo di rischio. Era un investimento come altri fatti in precedenza, a basso rischio, e quindi non c'è stata nessuna informativa della possibilità di perdere questi soldi, anche parzialmente. Non zero. Ritengo ci siano altri casi, così ne sto analizzando altri due, poi vedremo se ne arrivano altri. Penso di seguire lo stesso percorso, anche perché la via civile è stata preclusa da una serie di normative intervenute che limitano moltissimo la possibilità di azione. Rimane l'aspetto penale che a mio avviso comunque giustizia è necessario farla.